Musica Amministrative 2016, parliamo con Riccardo Maggi, segretario di Radicali Italiani. I Radicali hanno da poco elaborato un nuovo logo perché parteciperanno con delle liste proprie alle amministrative a Roma e a Milano. Ci sono anche altri Radicali sparsi un po' in Italia che parteciperanno alle amministrative e cercano di dare il loro contributo. Facciamo vedere Riccardo Maggi questo simbolo che poi metteremo anche in copertina. È un simbolo molto semplice, colorato, radicali, federalisti, laici ed ecologisti. Ecco, questi tre termini già danno una certa connotazione. Però sostanzialmente, siccome ricordiamo Riccardo Maggi è il consigliere uscente, uno dei due eletti insieme a Davide Tutino nel municipio VII, Anche sulla base di quella esperienza, che tipo di contributo pensi di poter dare tu questa lista e comunque in generale i Radicali all'amministrazione di questa città per la nuova consigliatura? Intanto, come sempre avviene per noi Radicali, non diamo per scontato la partecipazione alle elezioni, che siano amministrative, politiche o di altro livello. In questo caso c'è stata negli ultimi anni a Roma, ma ancora prima del 2013, quando decidemmo con l'Associazione Radicali Roma di tentare quella mia candidatura all'interno della lista civica marino, ancora da prima c'è un'attività dell'Associazione Radicali Roma che va avanti, che è cresciuta, che ci ha anche consentito di avere un patrimonio di iniziative, un patrimonio di analisi, anche con dei risultati che sono riconosciuti, che ci hanno dato una credibilità. A nostro avviso in questo momento c'è bisogno di una presenza radicale e quel patrimonio non va disperso, ma bisogna tentare di metterlo a frutto. Insomma, io penso a tutte le questioni che noi abbiamo sollevato negli ultimi tre anni, negli ultimi cinque anni, sono questioni che poi sono molto spesso esplose come i nodi irrisolti, come le urgenze più grosse che questa città ha. Sulla base di questa esperienza noi abbiamo deciso di avviare questa iniziativa politica elettorale, abbiamo deciso di farlo come sempre poi con le modalità forse più difficili, perché è chiaro che il candidato iscritto radicale Roberto Giacchetti sta vivendo una situazione non facile, per come è terminata la giunta Marino, per le condizioni del suo partito, perché, diciamolo chiaramente, in quel partito, nell'apparato di quel partito, ci sono degli equilibri, degli assetti di potere, degli interessi che a me viene in mente in queste ultime settimane, mi viene in mente spesso la situazione che si verificò quando Emma Bonino era candidata nel 2010 alle regionali del Lazio. Alcune parti di quell'apparato sembrano essere o potrebbero essere più interessate a una sconfitta del proprio candidato per tutelare quegli equilibri e quegli interessi piuttosto che a una vittoria. Allora succedono cose strane, c'è la campagna elettorale che sembra non partire, c'è un isolamento dello stesso candidato, c'è una strana atmosfera. Quello che noi stiamo facendo e quello che faremo ancora di più nelle prossime settimane è intanto tentare di trovare il modo, con un dialogo con lo stesso Roberto Giacchetti, perché l'esperienza e l'attività radicale di questi anni e la presenza della lista a sostegno suo sia valorizzata al massimo, ma non perché abbiamo noi delle ambizioni, perché crediamo che solo così gli possiamo dare una mano. Tra l'altro ci arrivano da più parti anche un incitamento e un sostegno da parte dei cittadini che ci dicono che in qualche modo voi siete l'unica lista che sarebbe votabile in questo contesto da parte di chi non vuole votare all'ammasso il Movimento 5 Stelle e non vuole dare un voto al centro-destra. Riccardo, ricordiamo con qualche piccola delucidazione tecnica qual è lo sforzo in qualche modo per conquistare quanti gradimenti per poter entrare nel Consiglio Comunale con questo sistema, questa è una lista di autonoma ma di appoggio a Giacchetti. Ecco, più o meno che parte poi ci sta anche una raccolta firme che bisogna fare. Anche per una chiamata un po' alle armi in qualche modo non violente e all'aiuto, c'è una raccolta firme che è in corso e tra l'altro il sito su cui si possono trovare tutte le informazioni è radicali2016.it, poi da lì si può andare sulla campagna per Roma o su quella per Milano si può lasciare la disponibilità per aiutare nella raccolta delle firme ricordiamolo, insomma le firme necessarie per la presentazione di una lista sono tra le 1000 e le 1500 e abbiamo pochi giorni perché entro i primi giorni, entro il 5 di maggio andranno raccolte le firme, andranno depositate queste liste. Da quello che è successo nelle tornate elettorali scorse ma anche da quello che dicono i sondaggi c'è sostanzialmente la metà degli aventi diritto che o è indecisa o pensa di non andare a votare quindi questo può far cambiare quello che abbiamo visto anche con le esperienze della lista della rosa nel pugno nel 2006 insomma se si sta nella coalizione ricordiamolo noi rispetto a questo noi abbiamo un dialogo e un rapporto con un sostegno al candidato sindaco Giacchetti non abbiamo partecipato alle primarie, non abbiamo quindi partecipato al tavolo della coalizione del centro silista nelle primarie abbiamo avuto in questi anni degli scontri durissimi con il partito democratico romano perché a nostro avviso, questo è il nostro giudizio, l'abbiamo detto pubblicamente più volte ha avuto un ruolo fondamentale in quel sistema consociativo e spartitorio che è all'origine di molti dei mali di questa città quindi questo è esplicitamente il nostro giudizio politico su quel partito ora vedremo che cosa succederà, che tipo di lista presenterà stando nella coalizione di un sindaco che vince che quindi ha un premio di maggioranza con un po' meno del 2% intorno all'1,7% si ha un eletto altrimenti serve quasi il 3% sul sito radicali2016.it si trova un programma sia in versione sintetica sia in versione un po' più lunga sono i primi 12 punti che noi abbiamo sottoposto come offerta politica al candidato Giacchetti intanto sono punti radicali e sono punti sui quali in questa campagna elettorale ancora nessuno si è espresso quando noi sentiamo il Movimento 5 Stelle dire che l'Atac si risana facendo pagare il biglietto questa è una furbizia, un'astuzia perché bisognerebbe dire cose molto più radicali bisogna dire che un'azienda che spende la metà del proprio bilancio in costi per il personale non sta in piedi sia essa pubblica o privata evidentemente se fosse stata privata sarebbe già fallita questa sta in piedi perché i romani pagano sistematicamente delle ricapitalizzazioni che non si traducono in un miglioramento del servizio ma si traducono in un mantenimento di quella struttura lì la struttura clientelare per la politica, per il sindacato ed è un'azienda esemplare perché è la più grossa azienda del trasporto pubblico locale in Italia una delle più grosse in Europa e possiamo dire che tutti i romani ne pagano le conseguenze non solo con le proprie tasse ma ne pagano le conseguenze perché il trasporto pubblico a Roma è la principale richiesta il principale problema che i romani avvertono in base a tutti i sondaggi e purtroppo continua a essere pensato e realizzato in funzione di quell'azienda non è l'azienda che si adatta alla domanda di trasporto pubblico ma è la vita quotidiana dei romani che si deve adattare ai bisogni di questa azienda noi pensiamo che questa situazione vada interrotta rapidamente che tra l'altro nel 2019 c'è un obbligo comunitario per la messa a gara del servizio e che quindi ci si debba preparare proprio a questo cioè una visione più aperta, più europea messa a gara del servizio questo cambio di modello di erogazione del servizio cioè bisogna cominciare a pensare che a molte volte i servizi pubblici soprattutto quelli forniti alle amministrazioni locali non funzionano perché non c'è l'immaginazione o non c'è la volontà politica di cambiare il modello di erogazione questo vale anche per i servizi alla persona ai servizi sociali, agli disabili, agli anziani adesso c'è un sistema per il quale il cittadino viene vinto da una cooperativa semplicemente perché risiede in un municipio dove l'affidamento viene dato a quella cooperativa qui il cambio di modello a nostro avviso deve essere ancora più radicale ci deve essere la possibilità per il cittadino di esprimere la scelta sull'operatore che lui vuole che vada a casa sua proprio perché è un servizio così delicato e questa scelta può avvenire se si danno ai cittadini dei voucher che i cittadini poi decidono con quale operatore spenderli e quindi da chi avere il servizio questo consentirebbe a parità di risorse di abbattere le liste di attesa di tutelare la libertà di scelta del cittadino utente e di avere anche una maggiore remunerazione per l'operatore che adesso invece è un settore fortemente precarizzato su questa cosa proprio Davide Tutino che è il nostro consigliere uscente vicepresidente del Consiglio del Settivo Municipio si è molto impegnato e questa è una scelta per noi qualificante che abbiamo chiaramente posto sul tavolo tra l'altro insomma proprio nei prossimi giorni ancora ci saranno anche altri incontri per definire il programma ma penso anche ad altri punti come il superamento dei campi Rom noi abbiamo due delibere di iniziativa popolare che abbiamo depositato a settembre del 2015 un mese prima che cadesse raggiunta Marino quindi non c'è stato tempo e modo di discutere a nostro avviso bisogna ripartire proprio da lì sono state elaborate con l'associazione 21 luglio una con un ampio comitato che ha coinvolto le migliori associazioni che sono impegnate penso da Buon Diritto penso alla CILD penso all'associazione 21 luglio a un ponte per quindi chiusura progressiva superamento e chiusura dei campi Rom attraverso l'attivazione di percorsi di inclusione che possono a Roma nel giro di 5 anni di una consigliatura raggiungere questo obiettivo non con le ruspe come dice Salvini con un minimo di cervello di uso dei fondi europei e di pianificazione e progettazione dall'altra riforma del sistema dei centri accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati un tema che è importantissimo che sarà sempre di più un tema centrale perché dobbiamo capire che quello dell'afflusso e anche diciamo purtroppo del traffico di esseri umani è una questione che è destinata ad accompagnarci e quindi noi dobbiamo investire nell'accoglienza e nell'integrazione questi sono alcuni dei punti tutti gli altri li trovate su radicali2016.it Perfetto, allora ringraziamo Riccardo Maggi ricordiamo lo segretario di Radicali Italiani e appuntamento quindi su questo sito diamo radicali2016.it Grazie ancora Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti